terza carta allora andiamo a sprombattuto 18 e 14 come adotti la strategia soprattutto qual è il sottostante? beh la terza carta è uno dei miei cavalli di battaglia dove tra l'altro sono già andato a target più di una volta ed è Eurodollaro tra l'altro sempre con la stessa operatività la view rimane sempre la stessa io sono rialzista di Eurodollaro quindi si tratta di una carta verde su appunto Eurodollaro una carta verde su Eurodollaro però un dollaro che nelle ultime settimane ha vissuto non sono i confronti della divisa unica europea una fase di rivalutazione sembra che un po anche la banca centrale americana abbia messo sotto la sua attenzione l'andamento della cambio una volta che si è arrivati in area 1,23 arrotondando ora è da capire perché perché comunque aver perso una storia psicologica di 1,20 forse importante potrebbe essere ancor più accentuata a discesa no io non penso nel senso che io la vedo esattamente come la vede Tony cioè secondo me il ritracciamento da questi livelli rappresenta un'ottima occasione per andare long non ho paura di comprare Eurodollaro in questo momento la Fed è più reattiva secondo me di quanto non lo sia la BCE quindi saranno più bravi e più veloci di noi a svalutare la valuta e Eurodollaro secondo me tornerà fino ad area 1,25 non domani non dopo domani però di fatto secondo me il dollaro perderà valore quindi non ho assolutamente paura ad acquistare questo questo cambio senza se senza ma con grande tranquillità anzi farò poi incetta di dollari nel caso in cui dovesse arrivare a 1,25 1,27 anche più in alto però poi i valori Enrico della tua long sì allora sì allora il long questa volta il livello di ingresso l'ho posto a 1,18,60 lo stop loss l'ho messo a 1,17,90 quindi 70 pip di stop loss potrebbe anche essere colpito e io non escludo che vada sotto 1,18 e poi ho messo un target a 1,19,30 diciamo la convinzione sono quattro stelle sono abbastanza convinto del trade potrebbe essere colpito il mio livello di stop loss ma di fatto poi secondo me nel medio termine questo questo cambio è destinato ad apprezzarsi quindi a livello macro mi piace essere long e come ci hai già insegnato in altre occasioni una leva che quando vai ad operare sull'euro dollaro in generale sul mercato delle valute aumenta avendo una volatilità storicamente più bassa rispetto ad altre asset class beh sì comunque lo stop loss di 70 pip stiamo parlando dello 0,6 0,7 per cento adesso bisognerebbe fare i conti precisi però comunque meno dell'1 per cento quindi stiamo parlando di uno stop loss oggettivamente contenuto se anche utilizzo una leva a 15 volte 20 volte insomma se no non vado a prendere questi prodotti cioè nel momento in cui vado a fare un turbo lo vado a fare perché voglio sfruttare quello che è l'effetto leva se no se no non ha senso vado all'ufficio cambia cambiare gli euro e i dollari insomma